Siccome in questa puntata del podcast parlerò molto di Gran Bretagna, vi voglio riferire un dato che è appena uscito. Nei primi tre mesi dell'anno, cioè da quando è iniziata ufficialmente la Brexit, le esportazioni di cibo e bevande dal Regno Unito all'Europa si sono dimezzate. Oh, intendiamoci, è un numero che preso da solo non conta niente, ma appunto. In questi mesi è capitato spesso di sentire gente che prendeva il primo dato a disposizione, tipicamente le dosi di vaccino somministrate o una previsione di crescita del PIL per dire, vedete, gli inglesi sono usciti dall'Europa e ora corrono. In realtà gli effetti veri della Brexit li vedremo nel lungo periodo e ce ne saranno di dannosi per tutti, ma non sono sicuro che alla fine a perderci di più sarà l'Europa. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo del Green Pass per viaggiare, di quarantena, europei di calcio e olimpiadi e di una storia di resistenza che arriva da Hong Kong. Dunque, era atteso ed è stato finalmente firmato il provvedimento che istituisce il Green Pass europeo. L'Italia aderisce a questo sistema che è stato creato per permettere di spostarsi liberamente in Europa quest'estate, nonostante la pandemia. Le linee generali sono quelle che avevamo già detto con qualche piccola novità, quindi vediamole una volta e per tutte. Il Green Pass si può ottenere se si verifica una di queste tre condizioni. Se si è vaccinati, se si è avuto il Covid oppure se si è fatto un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Per quanto riguarda i guariti, la validità è di sei mesi dal certificato, dalla certificazione di avvenuta guarigione. Per quanto riguarda i vaccinati, il Green Pass scatta anche soltanto nel caso di prima dose, ma 15 giorni dopo aver ricevuto la prima dose e poi subito dopo la seconda dose è per 9 mesi. Per quanto riguarda i tamponi, invece, la validità di 48 ore riguarda sia i tamponi molecolari sia quelli antigenici, quindi basta anche un tampone rapido. Come si ottiene il Green Pass? Si può andare o sul sito dgc.gov.it, domodossolagenovacomo.gov.it, oppure sulla app IO, oppure sulla app Immuni. Su questo sito, su queste app, si trova un codice QR, uno di quei codici che si inquadrano con la fotocamera del telefonino e ovviamente questo codice si può anche stampare in formato cartaceo in modo da averlo sempre a disposizione anche senza smartphone. Per chi non ha la possibilità di accedere a questo sito, a queste app, perché non ha uno smartphone, perché non è particolarmente digitalizzato, perché non si sente in grado sicuro, dal medico di famiglia o in farmacia, tramite la tessera sanitaria, saranno loro a scaricare il codice QR, a stamparlo e a darvelo. Il Green Pass vale per tutti i 27 paesi membri dell'Unione Europea e in più vale anche per Islanda, Svizzera, Norvegia e Liechtenstein e anche per Stati Uniti, Canada e Giappone. Il Green Pass invece non vale, ma questo si sapeva, per la Gran Bretagna che dopo Brexit non fa più parte dell'Unione Europea. E anzi, a causa del picco di contagi di cui abbiamo parlato in questi giorni in Gran Bretagna dovuto alla variante Delta, ieri la Gran Bretagna ha avuto 11.000 nuovi contagiati in un giorno, il dato più alto se non sbaglio da aprile. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di imporre una quarantena di cinque giorni per chi arriva dalla Gran Bretagna in Italia. Questo provvedimento parte da lunedì, quindi non riguarderà i tifosi che sono attesi a Roma per la partita dei campionati europei tra Italia e Galles. Dal governo comunque sottolineano che il Galles è una delle zone della Gran Bretagna che ha la minore incidenza di contagi. Anche la Gran Bretagna comunque chiede, anzi già chiedeva, la quarantena per chi arriva dall'Italia e dall'Europa verso il Regno Unito. E questo rischia di essere un problema proprio per gli europei di calcio, perché molte delle partite più importanti del torneo, le partite finali, si terranno proprio in Gran Bretagna, a Londra, allo stadio di Wembley. E a questo proposito il premier britannico Boris Johnson ha preannunciato che forse il governo metterà a punto delle deroghe particolari per consentire almeno alle delegazioni ufficiali del UEFA e alle autorità che sono attese a Wembley per la parte finale dei campionati europei di assistere alle partite senza dover passare dai dieci giorni di quarantena. E c'è, come sapete, ne abbiamo parlato anche più volte proprio qui su Newsbox, un altro evento sportivo quest'estate che già sta facendo pesantemente i conti con la pandemia. Parlo delle Olimpiadi che erano previste a Tokyo l'anno scorso e che sono state rinviate proprio a causa del Covid e che inizieranno il 23 luglio. Il problema qua è circoscritto comunque perché già è stato stabilito che i tifosi stranieri non potranno assistere alle gare delle Olimpiadi. Ai giochi di Tokyo ci sarà solo pubblico giapponese. Ma adesso un gruppo di esperti consultato dal governo giapponese ha espresso il suo parere dicendo una cosa forse ovvia e cioè che il modo più sicuro per evitare che le Olimpiadi divengano un vettore di nuovi contagi o un focolaio è tenere gli eventi sportivi a porte completamente chiuse, senza pubblico. Una decisione a questo proposito non è stata ancora presa, certo sarebbe un bel problema dal punto di vista economico rinunciare alla vendita di biglietti per le gare ma soprattutto farebbe sicuramente un certo effetto vedere un evento tradizionalmente affollato di persone come i giochi olimpici tenersi senza nessuno spettatore. E restando su questa direttrice diciamo così che ci porta dalla Gran Bretagna all'Oriente c'è l'ultima storia di cui vi parlo questa settimana che arriva da Hong Kong. Allora come forse saprete Hong Kong è un territorio della Cina che è stato a lungo una colonia britannica e che ha fatto parte del Commonwealth cioè di tutti quei paesi indipendenti e che però sono ancora legati formalmente alla corona britannica fino alla fine degli anni 90 quando grazie a un accordo tra la Gran Bretagna e la Cina Hong Kong è tornata sotto la giurisdizione cinese. Secondo però un modello particolare che era quello cosiddetto di un paese per due sistemi perché mentre la Cina come sapete è un sistema non democratico a partito unico dove comanda appunto il partito comunista cinese Hong Kong avrebbe mantenuto istituzioni democratiche, libere elezioni, un sistema di partiti e di economia di mercato. Evidentemente però nel corso di questi anni dal 1997 a oggi il peso, l'influenza cinese si è fatta sentire sempre di più e sempre di più aumentano i timori che Hong Kong possa perdere le sue libertà. In parte questo è già avvenuto, avrete visto nei mesi scorsi le immagini che arrivavano da quella città di manifestazioni represse con la forza. Quelle manifestazioni erano dovute proprio all'approvazione di una nuova legge sulla sicurezza nazionale che prevede tutta una serie di restrizioni tra cui il trasferimento in Cina di detenuti condannati per reati particolarmente gravi, in effetti tutti i reati che prevedono più di sette anni di carcere. E sempre più spesso in questo tipo di reati rischiano di essere inclusi anche i reati d'opinione. Due giorni fa i reparti della polizia che si occupano appunto della sicurezza nazionale sono entrati nella sede di un giornale di Hong Kong che si chiama l'Apple Daily, hanno sequestrato materiale, confiscato beni e arrestato il direttore del giornale e altri quattro dirigenti, con l'accusa di tramare contro la sicurezza nazionale insieme a potenze straniere. La colpa dell'Apple Daily è di aver ripetutamente chiesto sanzioni contro il governo di Hong Kong proprio per le sue azioni volte a limitare la libertà dei cittadini. La buona notizia è che oggi migliaia di cittadini di Hong Kong si sono messi in fila davanti all'edicole per acquistare la loro copia dell'Apple Daily, che è stata realizzata con mezzi di fortuna dai giornalisti che erano stati cacciati dalla redazione mentre avvenivano queste perquisizioni e che oggi è diventata un manifesto di libertà contro il regime. Pensate che l'Apple Daily normalmente ha una tiratura media di 80.000 copie, ieri ne ha stampate mezzo milione, 500.000 e le ha vendute tutte. Ci sono scene di persone che arrivano in edicola con i bustoni, quelli dell'IKEA, e le riempiono di copie per poi distribuirle, regalarle, metterle a disposizione magari nei loro negozi o appenderle alle vetrine. Su Instagram tanti cittadini di Hong Kong stanno condividendo nelle loro stories e nei loro post questa prima pagina in cui a caratteri cubitali è stampata una scritta gialla, il giallo è il colore del movimento per la democrazia, e questa scritta dice dobbiamo andare avanti. Ecco, nessuno sa come finirà la lotta per la democrazia a Hong Kong, lo scontro tra il governo filocinese e il movimento democratico. Ma certo, queste code di oggi alle edicole sono un nuovo segnale, dopo le manifestazioni degli anni scorsi, che i cittadini democratici, che poi in grandissima parte sono studenti, studenti universitari, non si arrenderanno facilmente. Sono le 18.50 di venerdì 18 giugno 2021. Una comunicazione di servizio. Lunedì Newsbox si prende un giorno di pausa, quindi ci risentiamo martedì 22. Ma prima di andare ricordate di premere il pulsante segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Oppure, per essere avvisati appena esce un nuovo episodio, iscrivetevi al canale telegram t.me slash newsbox. E se avete domande, cercatemi su Instagram. Sono Alessio Balbi. Ciao e buon fine settimana.